Il mondo meraviglioso Un racconto che attraversa i secoli e la storia dell'arte Il Prado, un museo vivo, che cresce e si trasforma Con più di 8.000 opere d'arte, il Prado di Madrid è uno dei musei più importanti al mondo Un luogo di memoria e specchio del presente I quadri in questi saloni riservano sorprese Senti la vita e la storia che scorrono Nel duecentesimo anniversario della sua fondazione Arriva al cinema il film evento che svela i segreti di una delle gallerie più stupefacenti al mondo Il Museo del Prado, la Corte delle Meraviglie L'arte lava via dalla nostra anima La polvere della vita di tutti i giorni La polvere della vita di tutti i giorni